Ciao a tutti amici di Riviera Banca Basket Rimini, siamo qui al Flaminio con coach Massimo Bernardi al termine dell'ultimo allenamento prima della sfida interna qui con Livorno. Massimo, come è andata questa settimana in preparazione a una sfida molto importante per la classifica e anche molto direi affascinante per il livello dell'avversario? Beh sì, affascinante sì perché Livorno-Rimini è una classica del basket italiano. Abbiamo lavorato per la seconda settimana consecutiva quasi a completo, quindi ci siamo preparati bene, siamo molto concentrati, molto gasati per giocare questa partita. L'unico giocatore che ancora forse doveva riprendere bene la condizione era Bedetti, chiaramente era stato fuori per lungo tempo, ti chiedo come l'hai visto e se potrà avere magari qualche minuto in più rispetto all'ultima partita? Francesco non ha niente di particolare, però si è allenato a parte fino a mercoledì, giovedì ha fatto qualcosa con la squadra 5 contro 0, un po' di 5 contro 5 anche ieri, non è nelle migliori condizioni, vediamo se ci sarà bisogno di lui durante la partita, lo vedremo. Un'ultima domanda, Livorno viene da una striscia importante di vittorie consecutive, attualmente nonostante siano ancora i recuperi alla prima in classifica, ti chiedo qual è la loro principale caratteristica e su cosa dovrete concentrarvi voi per cercare di contrastarli? Sì, come sempre dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, a Piombino abbiamo fatto un'importantissima vittoria, dobbiamo prolungare quei 5 minuti e 33 finali per più tempo durante la partita, per fare questo bisogna allenarsi con continuità in un certo modo, noi l'abbiamo fatto per la seconda settimana e quindi mi aspetto che questi 5 minuti siano molti di più domani. Loro sono una squadra molto forte, sono primi in classifica non a caso, sono completi, hanno dei bravi playmaker, hanno un tiratore eccezionale per la Serie B come Casella, hanno un americano per la Serie B come Ammannato che ha sempre giocato in A2, è un pivot molto molto importante, però anche altri giocatori sono molto forti e infatti sono primi. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, che ci sia domani Livorno, che ci sia un'altra squadra non ci interessa, sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere disposti a sbucciarci le gambe e sputare veramente fra virgolette sangue per 40 minuti per tutta la partita, poi alla fine partita alziamo la testa e guardiamo il tabellone. Grazie.